muore, muore, muore Toscano, muore va subito all'attacco guarda come se ne va è in forma, è in forma 29.52 spiega, guarda che bacio uuuuuh ma che c'è da alto guardalo, guardalo come se ne va più strano ma finì non mancato ahahah no, guarda che rara che finiva fuori 1.474 occhio da 3 perchè se era vista no, vabbè ora a prenderlo come va a prenderlo via arriva Pei Tusca scappa che arriva Tusca scappa che arriva piatto sul collo no, non lo prende è lontano, buona proprio nel 50 stile 1.44 72 un buon 40 un buon 40 beh però l'ha detto bene 2.14 salta da solo 1.44 no, dai tra due o tre 2.15 via la tirata 1.1799 1.1799